L'attacco hacker al sistema informatico della regione Lazio ha lanciato un ultimatum di 72 ore allo scadere, del quale è difficile prevedere cosa accadrà. Anche l'FBI e l'Europol assieme alla postale. Nelle indagini, Giulia Palmieri. Le prime 24 ore sono trascorse, ne restano appena 48, due giorni alla scadenza dell'ultimatum. Hello Lazio, il messaggio dell'attacco hacker che da domenica tiene in ostaggio e blocca il sistema informatico della regione, comprese le prenotazioni per il vaccino anti-covid. A detta degli investigatori, il countdown sarebbe partito in automatico e nessuno sa dire cosa accadrà sabato. È stato hackerato anche il backup del sistema, niente copia di sicurezza dunque per poter ripristinare i file compromessi e i criminali sono pronti a chiedere un riscatto. Il centro elaborazione dati della regione è stato attaccato la notte fra sabato e domenica, eppure gli inquirenti sarebbero stati allertati solo il mattino seguente. Anche su questo ritardo indagano Procura di Roma e Pool, Antiterrorismo, Polizia Postale, Europol e agenti dell'FBI. gli stessi intervenuti nel recente attacco hacker al maxi oleodotto statunitense. Russia, Germania, Italia, il tragitto che secondo gli investigatori il virus avrebbe compiuto stavolta, iniettato nel sistema informatico regionale grazie al furto delle credenziali di accesso a un dipendente di Lazio Crea, la società che gestisce la rete.